Furius a Puellarchè, il punteggio di 2 a 0 a favore dei Furius, sono andati in un gol per ben due volte, Nicolini, frisco di convocazione nazionale, infatti, e ci ripaga così con questa splendida prova, davvero invisibile, invece la prova di Di Donato che adesso regala un pallone incredibile a Colace, eccolo qui, la coppia della nazionale futura, lunedì alle 11, Colace e Nicolini, Di Donato, pallone passaggio d'oro? E' il gol che viene scritto alla cronaca, parte il tiro, invece, incredibile, che gol, che gol, che gol, mamma mia, amoroso, che gol, direttamente sulla battuta a un missile, massimo solo, fischio io, 3 a 1, incredibile, due gol nel giro di 40 secondi, ha del clamoroso però questo gol di amoroso, Davvero un missile, ha toccato due volte Nicolini, prova adesso a salire all'occa, all'occa, palla al piede, all'occa, traete sul destro, parte il tiro, Mangoni intercetta, ancora amoroso, salta Di Donato, lo va a chiudere Colace, e poi spazza via, Nicolini, 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 prende pallata Sommella, ancora Nicolini, viene fermato, all'ultimo istante poi, prende anche il pallone, Sommella, il lungo rilancio, amoroso, non riesce ad agganciare la sfera, palla che termina fuori, vediamo la remista, dei giudici per Allocca, Ermanno Allocca, prova ad andare, perde il pallone, ancora amoroso, potrebbe calciare, amoroso, supera Colace, uno sguardo al centro, amoroso, non ce la fa tenere la palla in campo, 3-1, Colace, per Di Donato, 3-1, Di Donato, prova ad andare, mezzo a due, lo ferma Tamai, Sirignano, potrebbe servire amoroso, tutto solo Sirignano, è gol, sta in questa occasione, supera con un numero, però Colace, ancora amoroso, fortunato nel ripallo, il tiro del giudice, ancora sì, è gol, è gol, è 2-2, i Furus riaprono la partita, i Furus riaprono il match, doppietta di amoroso, e il rovaccio in questa occasione, il disimpegno da parte di del giudice, e la partita si incassinisce. 3-2, i Furus riaprono il match, con amoroso, ballo ai danni di Micorini, che si fa anche male, partita incredibile, Colace potrebbe anche calciare, siamo alla distanza? no, anzi no, si aspetta il fischio di Mauriello, seguiamo quest'ultima occasione, va Colace, facciamo il tiro, l'ultima occasione, partita riaperta, quindi attenzione, poi l'Arche dal vantaggio di 3-0, adesso 3-2, amoroso ha riaperto il match, Colace, si abbracciano Tamai, amoroso, il tiro di Colace tocca la coscia di amoroso, interrompiamo qui il nostro collegato.